Adli sbaglia il colpo di testa, la pala buona per Lukman, si guarda intorno, ci sono avversari indietro, può puntare, tunnel, Lukman! L'ha fatto, bello impossibile, due volte a De Mola Lukman! Mbappé, dentro non c'è nessuno, Mbappé deve andare da solo, arriva Neymar, Mbappé, doppio passo, Mbappé va via, Mbappé! Mbappé, nel finale ci illumina d'immenso con la giocata stellare da campione, Kylian Mbappé! Rijs, testa, Trossard, Saka, Gabriel Jesus vicino Odegaard, Gabriel Jesus sterzata, Gabriel Jesus dietro, Trossard! Meraviglia Arsenal! Trossard, due a due, Gabriel Jesus finta, dietro, Trossard, parecce conti! Zinchenko cerca il dribbling e lo trova, bella giocata, si continua per il vantaggio, Bernardo Silva! Un flash, un lampo, improvviso e bello, Bernardo Silva, 4 a 2, ma complimenti all'arbitro, dà vantaggio e il City fa gol! Marchinhos va a centrale, alza il pallone male, errore, Isaac, Isaac, Isaac Donnarumma, gran parata! Almiron! Almiron! Segna il Newcastle! Miguel Almiron! Rumore! Pasalic, dall'altra parte c'è Lukman, Scamacca si guarda intorno, ora ha visto Lukman, porta il pallone verso di lui, Scamacca contro dà, Scamacca guarda la porta, adesso Lukman, uno contro uno con Tazzova, Lukman, doppio passo! Lukman! Ademola via! Lukman, è lui l'eroe della serata, la stella più bella nella notte di Dublino, ne ha fatti tre, ne ha fatti tre, Lukman! Di Marco, stop, libero Cialanoglu, stop e tiro, Cialanoglu! H&R, Cialanoglu, Inter in vantaggio nel finale di primo tempo, segna il turco! Modric, c'è Rodrigo, visto da Modric la palla con l'esterno, geniale! 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 Di Rodrigo, ma ha fatto tutto per l'ennesima volta, il 10, il 10, Lukman Modric! Salberto, stop! Conclusione di Salberto, Provedel! Provedel! Assegnando il portiere, Ivan Provedel! Un finale bellissimo! Antebuto in Champions League, para l'impossibile sul lino e poi di testa, segna il gol dell'1-1! Saka vince il rimpallo con Alfonso Davies, arriva Gnabry, Ben White verso Saka, in era di rigore, Saka! La fa Girena, mette all'angolo, Bukayo Saka! Si prende subito la scena, Arsenal in vantaggio, trema Lemires, trema! Karim Benzevan, cucchiaio! Cucchiaio ha scelto il modo più stiloso per segnare questo calcio di rigore, 4-3! Ancora Zappacosta, ha trovato bene, buono anche il controllo, Zappacosta in aria, cross, la palla arriva, Lukman! Spuca e trova il gol, Atalanta in vantaggio, ademola Lukman! Naturalmente la mossa di Gasperini è vincente, 1-0! Vicino c'è Kane, Sané al limite, Sané tocca palla, Giorginio scivolata, Sané in aria, Sané, Sané giù! Calcio di rigore! Giocata brillante di Sané, hanno provato in tutti i modi a fermarlo, alla fine ci sono riusciti, buttandolo giù, calcio di rigore! Va! Kane! Freddissimo! È tornato a tormentare le vostre notti! Ha segnato l'ex capitano degli sports, Bayern 2, Arsenal 1, Harry Kane! Tony Cross È il movimento di Vinicius, l'ha visto Tony Cross, gran palla! Vinicius! Ha scritto calcio, Tony Cross ha fatto gol Vinicius, da vedere il movimento! Kim non ci ha capito nulla, il Real Madrid è in vantaggio, questo è il Real Madrid! Grande giocata, questa volta Vinicius, va via bene Fernandinho, attacca, dentro c'è Benzema, Vinicius, tanto spazio, Vinicius in aria, Vinicius! Vinicius! Mancava lui, 3-2, ancora una volta il Madrid, prende un pugno, si rialza e ne dà due, Vinicius! Velo di Parella, Lukaku, si lancia da solo, va veloce Lukaku, contro Cocciolava, Lukaku! Mostruoso Lukaku! 5-0 Inter, doppietta, sì, proprio così, tanta roba! Chukwese in aria! Chukwese! Eccolo! Il lampo di Samu Chukwese! Si prende la scena! Adli sbaglia il colpo di testa, la palla buona per Lukman, si guarda intorno, ci sono avversari dietro, può puntare! Tunnel, Lukman! L'ha fatto bello impossibile! Due volte a demola Lukman! Tunnel e poi all'angolo, la Dea avanti di due gol! Tunnel, Lukaku